Non si è fatta attendere la risposta delle forze dell'ordine dopo l'escalation criminale a Bitonto culminata in tre sparatorie a pochi giorni di distanza l'una dall'altra. Poco prima dell'alba è partito un blitz su tutto il territorio, in particolare nella zona 167, ma anche in via Pertini, via Crocifisso e nella frazione di Palombaio. Un'operazione congiunta che ha visto impegnati circa 100 uomini fra polizia, carabinieri e guardia di finanza, un elicottero e un'unità cinofila del nucleo di Modugno, coordinati dal commissariato di Bitonto del neo dirigente Maurizio Stefanizzi. In tutto sono state effettuate circa 30 perquisizioni che hanno portato a un arresto, una denuncia e numerosi sequestri di stupefacente. In manette è finito un 23enne pregiudicato, trovato con 20 grammi di marijuana e 5 di cocaina, divisa in 28 dosi già pronte per lo spaccio. Denunciato invece un trentenne già noto alle forze dell'ordine, anche lui trovato in possesso di droga. Per il 23enne processo per direttissima già in mattinata, nel mirino degli inquirenti, in particolare via Berlinguer, enclave del clan Conte, dove risiedono numerosi pregiudicati e sorvegliati speciali, anche di altri gruppi criminali in lotta per il predominio sulle attività illecite del territorio, in cui non è difficile che esponenti di gruppi opposti possano incrociarsi e innescare pericolose sparatorie. Come accaduto a luglio del 2012, quando prima fu gambizzato il pregiudicato Vito di Cataldo, sodale del clan Conte, e dopo il ferimento all'addome di Vito Cotrufo, ritenuto vicino ai Cipriano, furono esplosi altri colpi di mitraglietta verso una Fiat Punto, che fortunatamente non ferirono nessuno. Le armi sono tornate protagoniste nella zona appena tre settimane fa, quando due persone a bordo di uno scooter hanno esploso una decina di colpi di mitraglietta verso l'alto a scopo dimostrativo, un episodio che sembra aver innescato un botta e risposta a suon di colpi d'arma da fuoco, e dopo i dieci proiettili esplosi tra via Piepoli e via Saracino e i cinque di via Carlo Rosa lunedì e martedì scorsi, la tensione in città sembrava essere arrivata davvero alle stelle.